Ciao, nel video di oggi andiamo a vedere come comportarti come una ragazza che fa la stronza. Io sono Gio Di Lorenzo e questo è SeduzioneAttrazione.com Prima di cominciare ti ricordo una cosa importante. Se ti interessa la seduzione ho anche un canale Telegram chiamato Gio Di Lorenzo dove condivido informazioni che su questa piattaforma dove mi vedi ora non posso darti. Quindi vieni a trovarmi anche lì, trovi il link in descrizione. Dunque, partiamo dalla premessa. Per prima cosa tu potresti, da un certo ugual punto di vista, giustamente, dire ok, ma io non voglio una donna che faccia la stronza. Ora, a volte questo è possibile e altre no. Infatti, ci sta che le donne più belle, che sono quelle a cui molto probabilmente tu sei interessato, si comportino da stronze. Questo ha ragioni evolutive che fondamentalmente sono dovute al fatto che loro testano l'uomo per vedere di che pasta è fatto. E quindi tu devi essere tecnicamente capace a risponderle prendendole a trambate nei denti. E premetto una cosa, disclaimer. Ovviamente quando dico trambate nei denti, utilizzo una metafora. Questo significa, se non fosse chiaro, per voi geni su YouTube, che no, non dovete improvvisarvi novelli Mike Tyson con una donna, semplicemente dovete rispondere pan per focaccia. Perché c'è bisogno di dire anche queste cose a voi su YouTube. Quindi chiariamo, non sto incitando nessuno alla violenza. Bene, abbiamo fatto il nostro disclaimer per la gente che ha bisogno di aiuto nella comprensione. Capisco che sia roba difficile da capire, ragazzi. Avete ragione. In secondo luogo, è assolutamente irrelevante se tu voglia donne stronze nella tua vita o meno. Nel senso che quello che è realmente importante è che tu sia in grado di rispondere a tono quando si crea una sorta di battaglia verbale e che tu riesca a rigirare quella che è la situazione. Perché tu vuoi essere in grado, dal punto di vista tecnico, anche se quel tipo di ragazza, di donna, non ti interessa, di lasciarla sempre con un metaforico sono meglio di te, valgo più di te, eccetera, eccetera, eccetera. Che a fine giornata è l'unica cosa a cui queste donne rispondono. E questo non solo aumenterà quelle che sono le tue skills tecniche, ma per di più avere la sicurezza di poter rispondere a tono, lasciandola senza saper cosa dire, aumenterà quello che è il tuo senso di sicurezza nelle interazioni uomo-donna. Perché, ricordiamolo, sicurezza deriva da competenza. E di conseguenza, se tu sei competente sapendo di poter rigirare quelle che sono le situazioni più difficili, risulterai anche più sicuro. E se c'è qualche secchione, l'ascolto, che ha qualche rimostranza da fare rispetto allo ma questo è più ego che sicurezza o qualsiasi cazzata del genere che ti venga in mente, beh, sicurezza uguale competenza. Di conseguenza, se tu sai come rispondere, sei più sicuro. Punto. E devi imparare come rispondere in queste situazioni, perché in realtà situazioni di questo tipo, sul campo, sono piuttosto standard. In ogni caso, adesso dobbiamo capire, come primo step, perché le donne si comportano da stronze, ma, come vedrai, questo in realtà può portare solo a due possibili comportamenti da parte tua. Primo, non sono interessata a te e vogliono che ti levi dai coglioni. Secondo, ti stanno testando per valutarti e quindi per vedere se riesci a far salire quella che è la loro potenziale attrazione latente, passando il test o meno. Ovviamente, se non lo passi, questa scende o si azzera completamente. Terzo, sono socialmente più furbe a livello inconscio di quelli che sono gli uomini, in quelle che sono le interazioni uomo-donna, e di conseguenza, in quella che è la scala di valore fra te e lei, stanno cercando di posizionarsi come di più alto valore e farsi inseguire. Perché questo? Perché conoscono molto bene il principio per cui molti uomini non attribuiranno sufficiente valore a qualcosa che possono ottenere facilmente. O almeno credono che sia così. Di certo non è così per me, ma per qualcuno di voi all'ascolto, sicuramente lo è. Infatti ricorda che a livello evoluzionistico loro sono programmate per non farsi dare un calcio in culo dopo che sono state messe incinte. Perché questo nel nostro passato evolutivo avrebbe praticamente significato non sopravvivenza né per lei e né per la prole. E anche se oggi la società è molto diversa e quindi non hanno più problematiche di questo tipo, quell'istinto c'è ancora. Quarto, gli piace semplicemente quello che in inglese viene definito drama. Ora, che lei sia interessata a te o meno, in realtà in un primo momento è piuttosto irrilevante perché tu dovresti sempre cercare di darti la chance migliore possibile. Chance migliore possibile di arrivare al risultato. Questo significa che fin tanto che tu non hai una sufficiente esperienza sul campo che ti permette di capire praticamente a pelle in maniera quasi inequivocabile se A non è interessata o B è un test dovresti trattarlo come un test. E se lo era, la pura verità è che se lo passi, perfetto. Se lo passi o non lo passi ma non era un test, in realtà lo scoprirai molto molto presto e visto che non avevi molto da perdere in primo luogo, vale comunque la pena provare a passarlo e a quel punto scoprirei presto che non era interessata e a quel punto te allevi dai coglioni e next one. La cosa che però tu vuoi capire è che quando loro si comportano da stronze tu non vuoi ricadere in una di quelle che sono le due categorie di reazioni che loro si aspettano cioè essere bisognoso o diventare aggressivo. Quindi devi semplicemente rimanere positivo e non reattivo in quella che è la tua comunicazione e subcomunicazione prendila per il culo su quello che ha appena detto e toglile il frame. Questo mostra sicurezza ma soprattutto se tu hai la risposta pronta lei non saprà cosa dire. Cioè praticamente tu la devi mettere sotto in maniera positiva dal punto di vista verbale. E questo è dovuto al fatto che le donne quando si parla di sottotesto cioè quello che realmente sta accadendo all'interno dell'interazione e cioè di questa scala di valore fra te e la donna capiscono ben poche parole. Sono meglio di te e sono sopra di te. E questo tu lo devi subcomunicare mettendole al loro posto vincendo quello che è lo scontro verbale. Però quello che non vuoi rischiare di fare è entrare in uno scontro verbale che diventa un qualcosa senza fine. Per quale motivo? Perché questo può essere un qualcosa che ingaggia la ragazza a livello emotivo ma poi non porta mai da nessuna parte. E questo è anche il motivo per cui tu vuoi mantenere quella che è l'atmosfera positiva. Un'altra piccola tecnica che puoi utilizzare semplicemente quando accadono cose di questo tipo è passare il test aumentando leggermente quello che è il volume della tua parlata e attaccando un altro filone conversazionale subito. Così ottieni l'effetto di aver passato il test e per di più viri quella che è la conversazione in un luogo che a te è più favorevole per quelli che sono i risultati che vuoi ottenere. Tutto questo funziona? Molto bene. Non funziona e non era interessata? Next one. Stop. Non scappare subito. Primo. Ricordati di iscriverti al canale. Secondo. Vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.